amici buongiorno oggi voglio condividere con voi un racconto davvero agghiacciante quello che viene con una certa difficoltà anche da parte del giudice messo nero su bianco nell'ordinanza di misura cautelare l'applicazione di misura cautelare che ha riguardato il caso di marzia capezzuti in questi giorni sicuramente avrete sentito parlare del caso anche con dettagli sicuramente sconvolgenti però credo che la lettura del capo di imputazione possa aiutarvi a comprendere che cosa ancora oggi può accadere intorno a noi fondamentalmente io ho la preoccupazione temo fondata che di casi come quelli di marzia in realtà bene siano anche molti altri e siccome qui purtroppo non si è arrivati in tempo per tutta una serie di motivazioni che mi auguro vengano chiarite perché in realtà dopo una serie di sevizie ripeto quasi difficili da mettere nero su bianco ancor più difficili da da ripetere a voce alta che ha subito questa povera giovane donna peraltro con una vita travagliata un'infanzia trascorsa tra case famiglia e fughe sgangherate in giro per il paese una ragazzina che ha veramente una storia devastante una storia che unita la sua fragilità cognitiva lei era affetta da una disabilità diciamo moderata quindi un ritardo mentale per raccontarlo insomma con le precedenti definizioni che di fatto la rendevano una donna ma con la mente di una bambina di sette otto anni quindi immaginatevi un soggetto che era totalmente incapace di difendersi rispetto a tutta quella mole di predatori che si è trovata intorno prima di chiudere gli occhi per sempre dopo peraltro almeno un anno almeno un anno di servizi inimmaginabili vi leggo alcuni passaggi del capo di imputazione perché credo che siano veramente quelli che possono aiutarvi a rendervi proprio conto di che cosa di che cosa è accaduto a questa ragazza e di quanto di quanta malvagità di quanta crudeltà e di quanta gratificazione perché guardate parlate bene io sono abituata a confrontarmi con soggetti con personalità abominevoli malevole distruttive ma devo dire che quella di Barbara Vacchiano mi insomma mi sconcerta perché è chiaro che la insomma la regista di tutta questa storia il soggetto dominante in questa vicenda quella che di fatto è la principale artefice di tutta una serie di servizi che marzia patirà di punizioni che verranno inflitte addirittura le cavavano i denti l'hanno rasata in maniera brutale grossolana l'hanno picchiata tutto questo chiaramente Barbara sempre quella che avvallava queste condotte addirittura la prima le ha fatto offrire una sigaretta da parte di un soggetto e poi mentre dava questa boccata addirittura così disperata perché non le veniva permesso neppure di fumarsi una sigaretta la costretta a ingoiare una sigaretta accesa quindi la componente diciamo principale di questo viaggio nell'orrore la principale protagonista purtroppo è una donna ed è Barbara Vacchiano cioè l'ordinanza su di lei è devastante il GIP la dipinge in maniera assolutamente realistica e gravissima cioè di fatto è lei che mente spudoratamente su marzia la accusa di cose inenarrabili tra cui anche quella di aver abusato di uno dei figli minori cioè accusa marzia addirittura di questo quando in realtà vi sono prove che sono tutte accuse deliranti farneticanti però perché da manipolatrice narcisista maligna della peggior specie questa signora cosa stava facendo stava cercando di distruggere la credibilità di marzia perché ben consapevole delle servizie che le infliggeva cercava di far credere a tutti quelli che conosceva marzia che quindi astrettamente marzia poteva contattare per chiedere aiuto e raccontare quello che subiva in quella casa quindi già insomma aveva sparso la voce tra loro seminando menzogne ovunque ne avesse avuto l'opportunità cercando di far passare marzia per una ragazza instabile non credibile inaffidabile bugiarda e quant'altro quando in realtà la bugiarda vera quella peggiore possibile era proprio lei e le accuse nei confronti di marzia erano accuse terrificanti cioè veramente non gli ha risparmiato nulla con l'obiettivo già di inficiare ancora prima che la ragazza potesse chiedere aiuto tentasse di farlo la possibilità che qualcuno potesse crederle che è qualcosa di veramente agghiacciante ed è una modalità tipica dei manipolatori maligni della peggiorrisma qui c'è una componente però ragazzi ben chiara cioè mi hanno chiesto spesso in questi giorni ma come si può arrivare a tanto come si può arrivare a seviziare una persona con quelle modalità consentire che venga seviziata anche da altri membri della famiglia tra cui anche i soggetti minori che hanno veramente assistito a un addestramento alla malvagità che facciamo davvero fatica a documentare in altre vicende anche se di storia ce ne abbiamo raccontate tanti in questi anni ma questa veramente passa davvero il confine con l'inimmaginabile io credo che neanche nei film dell'orrore più feroci abbiamo trovato spazio per quello che c'è scritto in questa ordinanza di custodia cautelare lei proprio pretendeva che loro assistessero addirittura eseguissero delle sevizie a loro volta perché era parte sostanzialmente di un rituale oscuro terribile familiare in cui marzia era il giocattolo su cui tutti potevano sfogare diciamo le loro le loro istanze più oscure più malevole distruttive senza pagarne conseguenze sostanzialmente e gratificando la madre che nel vedere evidentemente marzia degradarsi annichilirsi annientarsi sempre di più giorno dopo l'altro evidentemente ne traeva una gratificazione una gratificazione chiaramente di di matrice psicopatologica che non escludo potesse anche avere una sorta di risvolto di natura sessuale perché per arrivare a questo punto c'è una componente sadica che mi porta a ipotizzare che questa donna nel vedere martoriata questa ragazza si eccitasse fosse qualcosa che le piaceva proprio vedere che la faceva sentire bene che la gratificava che le testimoniava il potere assoluto che aveva nei confronti di questa ragazza inerme sfruttata in ogni modo in ogni senso senza alcuna limitazione le hanno fatto aprire un conto corrente l'hanno fatta mentire ai genitori che chiaramente erano persone che avevano avuto delle difficoltà anche abbastanza importanti e quindi non si erano presi cura di questa ragazza giocoforza non riuscivano evidentemente in qualche modo neanche a gestirla vista le problematiche che certamente anche marzia aveva in considerazione anche della sua particolare fragilità cognitiva e anche personologica quindi l'aveva costretta a mentire addirittura l'aveva costretta a dire che aveva un'altra relazione con un sedicente peppe che ovviamente non esisteva e che peraltro barbara poi userà come figura per sostenere quando marzia scompare il 7 marzo del 2022 per sostenere che se ne è scappata con questo addirittura l'ha costretta a fingere di aver avuto una gravidanza per forzare i genitori a fornire della documentazione che serviva per aprire il conto su cui far versare la pensione quindi continuare chiaramente a sfruttarla anche sotto profilo economico perché c'è anche quella componente insomma qui in questa storia amici non è veramente mancato nulla e il capo di imputazione infatti non a caso è davvero devastante insomma qui parliamo sostanzialmente di tutta una serie vi leggo solo alcuni passaggi ad esempio del reato di maltrattamenti il capo a perché in concorso tra loro questa è l'ordinanza applicata alla vacchiano a maria barbara vacchiano che sarebbe la sorella è la sorella dell'ex compagno di marzia morto per questione di droga nel 2019 e noschese damiano che è il compagno appunto della della vacchiano perché in concorso tra loro ovviamente c'è anche il minore che non compare in questa ordinanza perché chiaramente di lui si sta occupando il tribunale dei minorenni quindi c'è un'altra ordinanza al suo carico perché il concorso chiaramente anche in omicidio da parte del minore peraltro che ha raccontato con copiosi particolari e se ne è dato anche in questa ordinanza quello che è avvenuto la sera dell'omicidio peraltro gratificandosi e vantandosi proprio della feroce della crudeltà che lui stesso ha messo in campo in quel frangente fondamentalmente però questo è perché in concorso tra loro al fine di commettere il delitto di cui al capo dice sfruttare economicamente la pensione di marzia dalla faccia breve adoperando se vizie e agendo con particolare crudeltà approfittando in circostanze sia di luogo che di persone nello specifico della condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa affetta da ritardo mentale di media gravità quindi vi dicevo sostanzialmente considerate una capacità cognitiva assimilabile a quella del bambino di 7-8 anni nonché nelle condizioni di isolamento sociale e familiare a cui l'avevano costretta unitamente alle condizioni di omertà generale ingenerate dall'ambiente circostante mediante un costante clima di minacce e terrore idoneo ad ostacolare la pubblica e privata difesa anche alla presenza del minore uno dei figli chiaramente di soli anni sette con reiterati atti di gravità inaudita violenza percoste ingiurie minacce molestie condotte di prevaricazione continue vessazioni consistite anche in atti di disposizione e assoggettamento nonché in atti privativi della libertà personale cioè sostanzialmente questa ragazza era in una condizione di sequestro fondamentalmente all'interno di quell'abitazione ce n'è veramente di tutti i gusti come per quanto riguarda le servizie subite le cavavano i denti con strumenti diciamo di fortuna l'hanno rasata in maniera grossolana con delle forbici nella metta tagliandola in più punti la picchiavano in continuazione l'hanno costretta come vi dicevo a ingerire una sigaretta accesa sostanzialmente c'è una un lunghissimo elenco di la offendevano quotidianamente la umiliavano con tutta una serie chiaramente di eh di comportamenti questo la vacchiano chiaramente era la regista di tutta questa attività ma a cui partecipava anche il resto della famiglia eh le rivolgevano frasi come zocco la puttana cornuta lotta mongoloide sei sei una sei una buttana sei una bastarda sei senza futuro la minacciavano costantemente che l'avrebbero internata o le facevano fare la stessa fine dell'ex fidanzato cioè alessandro vacchiano o che comunque l'avrebbero dato in pasto ai maiali quindi insomma fondamentalmente Marzia non non aveva più alcuna possibilità di nessun di nessun livello cioè non addirittura la costringevano anche a non lavarsi la costringevano addirittura a scaricare il water quando loro andavano in bagno la costringevano a fare le pulizie di casa ci sono dei passaggi che parebbero addirittura far ipotizzare che potessero sfruttarla anche dal punto di vista della prostituzione l'avevano privata di ogni tipo di autonomia decisionale per quanto riguardava la prima persona non era libera di fare nulla sostanzialmente cioè non aveva nessun genere diciamo di possibilità parla proprio il gip di uno sfregio a cui è stata costretta ossia le sono stati tagliati i capelli da barbara con una macchinetta e una lametta impedendole di svolgere poi quotidiano ordinari atti di cura personale tant'è che non le veniva consentito neppure di lavarsi i capelli che infatti apparivano come quei pochi che erano rimasti estremamente sporchi e chiaramente strappati quindi una situazione veramente guardate allucinante c'è il passaggio legato proprio alla sigaretta che sempre barbara le avrebbe fatto ingerire accesa quindi tutta una serie di particolari atti di particolare gravità l'avevano sottoposta anche a violenze verbali e psicologiche anche davanti a terze persone che non si comprende per quale motivo non si siano attivate visto la condizione in cui in cui ormai versava questa ragazza quando si sentiva male cadeva a terra la costringevano a rialzarsi perché doveva chiaramente fare tutta una serie di lavori di casa diversamente erano botte terribili insomma la picchiavano in continuazione questo chiaramente avveniva sia da parte di barbara principalmente barbara ma anche da parte del compagno questo chiaramente avveniva anche davanti ai figli e poi chiaramente l'avevano costretta a vivere all'interno di quell'abitazione viene poi descritto anche naturalmente l'omicidio che è avvenuto per modalità sfitti che viene descritta compiutamente proprio quella sera in cui lei viene portata fuori grida si preoccupa perché dice dove mi portate buio quindi capisce anche se in una condizione di totale insomma assoggettamento e anichilimento che qualcosa sta di molto grave ulteriormente grave sta per accadere e quella sera chiaramente marzia viene portata poi nel luogo dove verrà ritrovato il suo cadavere diversi mesi dopo e lì viene assassinata brutalmente appunto da barbara dal compagno e da questo ragazzo di 15 anni che racconta la sorella in maniera veramente raccapricciante in maniera anche trionfale di aver partecipato attivamente all'omicidio di questa povera ragazza ora sono tante ancora le domande a cui bisogna trovare una risposta e la storia di marzia io credo che sia importante raccontarla proprio nella sua tragicità nella sua brutalità nella sua crudeltà perché io credo che di marzia in giro ce ne siano molte altre di ragazze che vivono una condizione di segregazione di violenza psicologica fisica economica e sessuale e quant'altro e che hanno bisogno comunque che ciascuno di noi faccia la sua parte probabilmente in questa vicenda qualcuno la sua parte fino in fondo non l'ha fatta e questo è un aspetto che mi auguro venga chiarito perché di fatto ed emerge molto chiaramente nella nell'ordinanza la decisione di eliminare marzia arriva quando ivacchiano cioè la barbara e il suo compagno vengono a conoscenza dell'esistenza di una indagine al loro carico per le sevizie maltrattamenti infatti a marzia quindi probabilmente una maggiore tempestività avrebbe consentito a questa ragazza non solo di salvarsi ma di tornare a vivere una vita dignitosa accettabile e di magari prospettarsi un futuro possibile fuori da da quel tipo di contesto ma questo non è avvenuto quindi anzi la decisione di eliminarla arriva proprio quando loro cominciano a capire che l'attenzione su di loro a livello investigativo ormai è vicina e sanno bene che le condizioni in cui versa marzia sono già di per sé la conferma delle accuse nei loro confronti ragion per cui decidono non solo di ucciderla ma chiaramente di far sparire il corpo quindi è molto importante amici che riflettiamo tutti insieme su questa vicenda per evitare che accada ancora e soprattutto per fare in modo che ognuno di noi quando può fare la sua parte segnalare situazioni di difficoltà di fragilità in cui effettivamente qualcuno potrebbe essere esposto a scenari simili a quello che abbiamo appena raccontato possa fare in modo che ciascuno di noi faccia la sua parte e segnali a nessuno viene chiesto di fare l'eroe però questo tipo di persone non sono in grado di difendersi da sole e credo che ciascuno di noi questo piccolo sforzo per dare a queste persone un'opportunità di salvarsi e tornare a vivere una vita dignitosa lo possa fare senza particolari ripercussioni ci vediamo prestissimo amici con un nuovo aggiornamento continuate a seguirmi sulle mie pagine Roberta Bruzzone psicologa e criminologa sia la pagina facebook pubblica che il canale youtube e naturalmente il podcast casi criminali in cui purtroppo continuiamo a raccontare storie veramente terrificanti a presto